Bicycle, bicycle, bicycle Un intero territorio messo a sistema per la bicicletta, per godere della bellissima campagna di Casole d'Elsa, proprio al cuore della Toscana, che in pochi anni dall'idea di costituire un Bike Hub, il primo in Italia, ha visto moltiplicare la sua offerta turistica con decine di iniziative di ospitalità. Dopotutto i dati dicono che ogni anno vengono a pedalare in Italia 450.000 ciclisti stranieri e che le due ruote valgono per il bel paese almeno 4 miliardi di euro di turismo l'anno. Per questo il Bike Hub di Casole si è già alacremente messo al lavoro. Dopo due mesi di lockdown completo siamo prontissimi per ricevere qualsiasi turista, grazie anche alla grande preparazione degli alberghi e delle strutture ricettive che sono anche più avanti rispetto a quello che prevede il decreto ministeriale, per cui ci sentiamo tranquilli nel poter ospitare tutte le persone anche perché viviamo in un paesaggio, in un territorio talmente ampio che prima di venire il prossimo cristiano dobbiamo aspettare quasi ore. Il fiore all'occhiello del Bike Hub toscano è il Grand Tour, 173 chilometri tra le meraviglie del territorio, a cominciare dalla spettacolare abbazia di San Galgano con le sue atmosfere quasi scozzese, la cappella rotonda di Montesiepi con la spada di San Galgano piantata nella roccia e poi borghi e vigneti come solo in Toscana. Siamo pronti quindi ad accogliere qualsiasi persona che voglia trascorrere una vacanza tranquilla con tutti i protocolli già preimpostati con le nostre strutture turistiche. Insomma, un territorio bucolico al quale la bicicletta ha fatto dono di una manna turistica, discreta e a misura di ambiente, quel che ci vuole, che attende solo di poter ripartire. Bicicletta, Bicicletta Bicicle, Bicicle, Cora Bicicle